L'Italia torna da San Miguel de Tucumán in Argentina con una pioggia di medaglie nei campionati mondiali di bocce. Medaglia d'oro per la terza volta di Elisa Luccarini, battuta in finale Stella Paoletti di San Marino e per la prima volta di Gianluca Formicone, vittorioso 12-2 in finale su Osvaldo Palomino del Perù. Mentre nella coppia mista Chiara Morano e Luca Viscusi è arrivato un ottimo bronzo. L'Italia vince anche la Coppa per Nazioni. Dopo la netta vittoria interna della squadra di categoria B del Possaccio contro i rivali della bocce a fila sarda Galligel nella gara di andata, 6-2 per i verbanesi, in attesa la pesante sconfitta maturata nel ritorno in terra sarda. Possaccio B ha perso 7-1, quindi per la somma dei set abbandona la prestigiosa competizione. Grande ramarico dei dirigenti e degli addetti ai lavori. Non era prevista la debacle dei vari Silvio Massera, Carlo Callegari, Mario Buscardin, Francesco Raimondi e Walter Cattaneo. Si è chiusa l'8 marzo la gara di coppia alla bocce a fila di Borgomanero. Hanno ottenuto la sesta vittoria di stagione Pierlauro Angelini e Massimo Callegari del Possaccio che in finale hanno avuto la meglio su Rossi Pisano della Vigevanese. Sette giorni dopo la finale alla baraggia è stato appannaggio del duo Fabio D'Altoè, Massimo D'Aga della Fratelli d'Italia che in finale hanno avuto la meglio su Massimo Pedrini ed Eugenio Bergamin della bocciofila Caciago. Sul podio anche due coppie della bocciofila Stella. Ancora prima a Cuvio avevano vinto Zarini e Defendi e a Vergiata invece Chiappella Turuani. Sabato si chiude la gara a coppia di Possaccio mentre continuano quella di Terna e l'individuale di gran prestigio che vede ai nastri ben 64 giocatori di A e altrettanti di B e C. Nel frattempo si annunciano grosse novità per la prossima stagione. Se, come pare probabile, la squadra altoverbano di A1 retrocederà, abbandonando le competizioni, il Possaccio del presidente Dario Mazzolini sembra intenzionato a succederne nel campionato di A2 in uno dei quattro gironi a livello nazionale. Si parla dell'arrivo di giocatori del calibro di Roberto Antonini e Nando Paone e anche del giovane Francesco Campisi che gioca per l'Aquila ma abita a Piacenza. Questo significa anche che qualcuno dei partecipanti al recente campionato per società sarà tagliato.